...questa sera a Tortorici nel mondo, ma la squadra che vince non si cambia e dunque lo spazio adesso è riservato, l'apertura della trasmissione come lo scorso anno al gruppo che viene da Galati Mamertino e si chiamano i Calat. ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.